Ringrazio l'avvocato Andrea Corradino che attraverso una conoscenza personale ci ha messo nelle condizioni di conoscere questo ambiente che sinceramente non immaginavo di trovare in un ambiente familiare dall'impressione che ho avuto una professionalità e un ambiente così professionale, devo farvi complimenti al centro sportivo che è veramente veramente bello quindi respiro un'aria come dicevo familiare ma allo stesso tempo professionale e tanta voglia di lavorare vedo dei giovani col sorriso sulle labbra e quindi qui non è solo sport, non è solo impresa ma è anche formazione di giovani che vogliono crescere e società che secondo me come la vostra, oggi diciamo come la nostra perché entriamo a far parte di questa famiglia che puntano sui giovani vuol dire puntare sul futuro. Evidentemente c'è un progetto, c'è un disegno e attraverso il rapporto personale che da qualche anno ho con l'amico Andrea ci sentiamo di sposare questo progetto perché anche noi abbiamo un progetto di crescita, vogliamo condividerlo insieme a voi e in maniera non del tutto scaramantica abbiamo voluto fare un pegnale. Chi vuole capire ha compreso che qui ci sono delle aspettative sia da parte della società e ci sono delle speranze anche da parte nostra che magari l'anno prossimo ci ritroviamo nello stesso ambiente e giocando in una categoria diversa.